e vediamo quello che esce ok siamo 4 più l'uomo invisibile no ma cosa bella che io vedo non possiamo fare con me la tua la vedi paola più giocatori nel gruppo quindi praticamente non possiamo giocare online possiamo solo fare una sfida quanti ne siamo 1 2 3 4 5 ne siamo giusto e quindi possiamo fare soltanto una creare una partita abbia vuoi giocare vuoi giocare quindi abbiamo bisogno di un'altra persona fa le vini a giocare si è arrivata a 30 facciamo 31 pille picapille da un suo lunghe vabbè ragazze facciamo una cosa ci alterniamo facciamo una volta e una volta paolo dai non la quale facciamo 3 contro 2 ma come si fa brutto lo stai a fare come si creare la partita così una privata e poi c'è chi sceglie per esempio quadra blu ne scelgono tre squadra rosso che crea una partita privata però per quanto lo trova di farlo tutta sì sì tre con no sono 3 quando non esiste 3 quando il numero di giocare deve essere parco per essere ecco no si parla verso il giorno vabbè io vado sulla lancio io sono blu adesso che devo fa un'uscita blu eh sì ma che è sto lago mi piace lag perché la donna mia ma non c'è l'altro dice tutto la visione che sta cerata faccia un'acqua che stavolta per 184 te lo dico io perché sta in download te lo dico no non c'è abbastanza un ragazzo parato eh sì c'è il ping troppo levato io c'è troppo laggo io ma finita sta partita devo risolvere sto problema ma finiti di download si permette in fase download e via 2 si ma vediamo un attimo ma lo devo fare dopo non lo posso fare ma dai eh sì sì te le trasporta i biscotti non 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 nooo segnate cazzo e che è ho parato ho parato ho parato ma Valedetto latte del cazzo Davide vuoi segnare o no? Paolo 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 Devo scapparare tutto ragazzi Vado un poco in attacca No vabbè Dopo questa partita mi darà un attimo in un minuto Ora vengo subito Ma non posso continuare Ottimo Colpo di scena Eh il colpo di scena Capito il camioncino invisibile E' improvvisamente appassionato davanti a me Vedit Ah sono Ma non è I c'entrato E' Perfondo Il ma l'ho proprio scantata la palla comunque ci sono dei teletrasporti ci sono dei teletrasporti ragazzi è andata piano piano no il problema è che per me andava veloce con il lato ah bello si è fatto un tiro veloce oh 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 non mi riuscivo manca a girare fatto palo da poi che il palo mister lento ragazzo tanto ragazzo non attima meno principale devo devo risolvere un attimo questo problema davanti su due minuti di numero vengo subito prendo solo qua non ho capito perché ok allora mi fa abbandona la partita adesso vedo un camioncino il camioncino sono sempre io adesso quando sono io che entro e non mi vedete a me adesso quindi quattro massimo allora da invitami un attimo per favore vediamo se è cambiato qualcosa ok ho invitato in goio sicuro ok vai ok andiamo ci vuole un sesto comunque si poteva fare tipo un 5 contro 5 con un campo bello grande ci manca il sesto e fabio non vuole venire a giocare e di te veri vai a creare la parte ma possiamo fare un torneo ma sei su Twitch Davide si quindi non posso dire cose riguardanti Twitch riguardanti Twitch non puoi dire cosa inerente a i tubo e fa creare la partita privata allora e facciamo un'altra volta 3 contro 2 dai o 3 contro 3 o 4-4-4 dice Michele stava giocando una partita ora quindi Michele stava si Michele stava giocando quindi non lo disturbiamo fatelo a finire fate finire di giocare a Michele se non posso creare la partita ci ha visto i tu Michele quando hai finito ti chiesto è giocando no sto eccomi eccomi ragazzi le cuffie si disconnettano le cuffie blu che ti volevo dire io sto ancora nella partita di prima aspettando a voi evito io torno al menu principale quindi abbandonate abbandonate la partita possiamo aggiungere un bot principiante professionista all star incappato principiante professionista mettete professionista andiamo a più deboli facciamo auto e poi chi capita acchiappa il bot auto tutti auto si ok auto si acchiappa il bot io sto con noi io Paolo e il boss i blu sani sundown ma bello sta l'altro quadro ma questa mi è Paolo hanno spistata a pot ma questa è la porta dell'Oki chi è che sta a porta fermo stavo io a porta ma ma praticamente stavo andando verso la palla ma il pad praticamente non è voluto andare all'altra parte gol con capriola però non so vestite no me lo trovo bravo questo è questo cesso di campo qua che è ah dicevo io era di trova a porta a ah ah pu**a e quindi posso andare dietro alla palla si è proprio con il cesso sto campo concordo concordo posizione della porta si perde ancora più tempo questa parte oh la vera è sarebbe l'ho buttata ancora il bot è una chiave il bot è principiante che ha bot è principiante ok 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 vai Oh, poi nessuno sta a porto! Ah, panza rotto! Scemo sta a porto! La vedetta di panza rotto! Oh, ora ci sta il pallone dentro! Ehi! Ho fatto pure il popocono! Ho fatto pure il popocono! Completo! Vai, ma stai vanno, vai! Vai, 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 vai! Uttana! Oh, 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 oh! No! Eh, vabbè! Ho passato tutta la palla! Questo è un gol su posta, eh! Io ho fatto tutta la palla! No! 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 Vai è forte! Vai è forte! No! Vai è forte! Vai è forte! N answered! N passado! flashата miliciaroni! Non sia più importante! No! Quando ci stai... No, mi sono stato scritto! Buon il voto! Bravo! No! No, mi sono stato fatto quando la riporto tu l'hai fatto! di liste mi piacciono le cose a metà ai tono così entra mamma mi chiede che zumba da pararia fatto non c'è un casino la spargia non ci sono in giro mamma mia ma veramente la miscela di me si è un zumba tutto qua nooo come si wow è il culo ma lo vedi ma che ammazzo ma che ammazzo eeeh ito ma che fai dentro la sinistra mi sento molto tranquillo ma senti tranquillo ma la robotta non mi dica mai nooo mi sta mandando a ne dire questa cosa ma la destra e la sinistra nooo a destra nooo ti voglio bene però me l'ha dato come parata sai mi difesa vabbè tutto a posto stai a posto quindi tranquillo stai vivendo tranquillo mi senti proprio tranquillo stai tranquillo eh avete 30 secondi? anzi botte anche il simone è venuta addosso